Se fino pochi giorni fa le richieste del Club Viola si aggiravano intorno ai 2530 milioni euro, le difficoltà incontrate nell'incontrare acquirente pronto a pareggiare queste condizioni hanno cambiato il modus operandi barone e commisso, secondo quanto riportato la nazione. Infatti, si tratta un netto cambio situazione e posizione rispetto qualche settimana fa che. Quindi, apre nuovi interessanti scenari sul mercato. La vecchi signora. Infatti, monitora il giocatore da mesi. Vista anche la necessità trovare un'opportunità sul mercato che possa dare ad Allegri centrocampista. Da schierare davanti alla difesa. Che possa aiutare o, in alternativa, sostituire Manuel Locatelli. La speranza trattativa con Arthur abbia contribuito rasserenare gli animi tra le due. Società. D'altronde sia barone siamo pronti a cogliere le occasioni si presenteranno fino alla fine. Mercato sia italiano. Vediamo cosa succederà negli ultimi giorni di mercato hanno indugiato. Sul situazione. Giuntoli al lavoro ma chiaro l'apertura all'idea prestito rende la dirigenza bianconera vogliosa. E non poco. Pronta ad annusare l'affare per il centrocampista marocchino. Dal Wolfsburg tutti in stand-by al momento con i Red Devils sondano anche Oibier Tottenham. Saranno giorni intensi per il futuro. Classe 96. Juve alla finestra oppure sarà permanenza Firenze. Anche se voglia di una nuova avventura sotto un grande nome nota da tempo.